Questa è la mia differenza con tutti gli altri Questa è la verità delle verità Io ti parlo in verità, gli altri no Se uno mi chiede Emi, ma tu che fai con tutto questo tempo libero? Lo sapevi che io ho Giove, in ottava casa, in vergine Che pensate di questa frase? Mi capisci? La donna in genere non ha un piano concreto, di niente Vabbè, poi una donna ci nasce Perché se una donna prega, non avrà bisogno neanche del re Questo lo capirai, chissà, forse in questa vita Forse Se io domani voglio andare a Hong Kong, prendo e ci vado Niente olio, niente sale Devi pensare che le ossa sono strutture, sono come delle rocce Ad esempio, ti sei spaccato il braccio Devi avere a portata di mano un chirurgo naturale Che potrei essere io Dovrebbe chiamarmi immediatamente Perché io più o meno so cosa fare Non lo so razionalmente Lo so in un altro modo Quindi magari ci sono fasciature forti Poi uno dice Emi, ma il sangue non viene troppo compresso Perché uno pensa Io mi sono rotto il braccio Casualmente Io invece ti dico Ti è successo quello? Perché hai degli altri squilibri Ci fu una volta in cui a me mi pizzicò una pone Dopo un pari settimane mi pizzicò una vespa E fu un caso? Ovviamente no Sarà un fatto di olio Arriverà un giorno in cui non finirai più di contare i soldi Ci possiamo divertire Che posto vi piace a voi? Vi piace Las Vegas? Che vogliamo fare? Vogliamo prendere l'aereo? Va bene Io prenderò l'aereo di lusso Ma io non posso viaggiare sull'aereo di 1000 euro Prenderemo l'aereo di 2500-3000 Vi volete sbrigare? Che dobbiamo partire? Cazzo! Il latest vi piace? Come aereo? Bevo un po' di champagne Champagne lo posso bere Scusi signorina C'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni Stronzone! Io devo stare a queste esigenze da adesso Io sono un esempio molto particolare Perché ho un'attività umanitaria Che deve cambiare tante cose nel mondo Magari tutte queste cose che sto dicendo sono fuffa Che ne so A Chicago? Ci piace Chicago? Vogliamo andare in Messico? Il problema è che poi devo comprare il camper Lì, là Magari potrei creare un'attività Tipo ci va una persona Mi apre le finestre Ovviamente il candidato dovrà essere una persona equilibrata Le candidature che io offro Poi magari ve ne parlerò Dei soci che mi servono La regola è che comando io Come, come, come umano lei? Sono io l'antenna che sta ricevendo queste informazioni Qualcuno lì sopra ha deciso che sono io il dirigente Gli stipendi Poi ognuno avrà il suo imponibile Dipende dalla responsabilità Sono assurdi Sono dei guadagni Veramente con un minimo sforzo Bisogna avere comunque delle qualità Bisogna saper parlare Quindi magari ti dico Vabbè, stai in prova E poi vediamo Domani dove vogliamo andare? Non è che prendo l'aereo Economy Ryanair Prendiamo Emirates Gli arabi Prendiamo l'aereo che c'ha le rifiniture in oro Col tavolinetto Sto lì col portatile Mi vedrete vestito in un altro modo Magari l'ho detto Con un po' di champagne Tanto è vegano Quale limite posso affittare i camper? Quindi magari i mezzi che io ho Poi passeranno ai miei soci Cominciate a pensarci Perché questo succederà Datemi quei 3-4 mesi Perché io ho bisogno di far ricrescere i capelli Avere bell'aspetto Il videogioco GTA San Andreas Dove è citato? Dove l'hanno fatto? Voglio andare lì Non ci posso più andare con la tenda Non sto più a quel livello spirituale Quando io mi sposto adesso Dovrò avere tutta un'impalcatura materiale Ti metti in coda Io ho dei posti vacanti Lo so già che mi serviranno delle persone Sai parlare con gli altri? Bella presenza Capelli corti, sistemati Giacca e cravatta Un fisico abbastanza asciutto Poi più uno avrà questi criteri Io li valuterò E avrai gerarchie differenti Nel mio staff Sapete che vorrei fare? Un camper strutturato con una mie Con una stufetta Stufetta a legna Non so come va messa nel camper Ma ce la voglio Va studiata Ma penso che si può fare Posso andarci anche in Danimarca Poi quel veicolo passerà al vice Questo sarà un privilegio del vice Di chi mi segue tante cose Chi lavora con me Non deve percepire che è un lavoro Tu con una mezza giornata Tu più o meno ti sei fatto Quasi un salario mensile In Italia Creiamo un tipo di olio Che sia sicuramente più salutare Troveremo il modo di farlo Però voglio dare queste idee a tutti Mi seguite a quello che dico Ci avrò la videocamera Ad altissima qualità Ci avrò una connessione internet Ovunque Non so come si fa Io sto qui per aiutare Tantissime persone I'll fly With Emirates I'll be rich Continue to follow this channel If you need a work Followers of Christ Do your mission When I will move I'll have The last model Of caravan I will fly On Emirates We wanna go Into Dubai We go there I am called To manage A big richness You'll be Highly paid I'll be completely rich But I'll need that money Children Are stolen Everyone is vanishing I'll fly With Emirates This is my mission Caraca Troia Troia